ok salve a tutti ragazzi eccoci qua c'eravamo lasciati l'ultima volta con lo studio del della struttura iterativa se ricordate come far eseguire delle operazioni ripetitive con un programma in un linguaggio di programmazione noi siamo il c e quindi abbiamo imparato ad usare l'istruzione for se ve la ricordate se non la ricordate potete andare di nuovo al video numero 12 dove troverete tutta la spiegazione io vi avevo promesso che poi avremmo dato anche una base teorica attraverso l'utilizzo del flow chart in modo che potevamo capire meglio cosa succedeva ricordate che forse arriva a contare un certo numero di volte un'operazione o più versioni da ripetere nello specifico sono queste sono racchiuse nel blocco for vedete tra le parentesi graffe e nel forno indichiamo punto di partenza punto di arrivo e l'incremento che deve subire ogni volta la variabile che conta quante volte abbiamo fatto il nostro ciclo adesso proviamo a dare un supporto teorico appunto a questa cosa andando ad analizzare un tipico diagramma di flusso allora io l'ho preparato già come al solito per evitare che perdiamo tempo quindi andiamo a vedere come è fatta una struttura iterativa classica 200 forse troppo 150 andrà meglio bene ok allora la nostra abbiamo un po il volume per non avere i ritorni guardiamo un po com'è fatta noi che cosa facciamo inizializziamo un contatore quindi diciamo l'ho chiamato i in questo caso nel programma qui si chiamava contatore per essere un pochino più umani insomma però cominciamo a dare dei nomi più piccoli altrimenti diventa noioso scrivere quindi il nostro contatore per esempio partiva da uno poi cominciamo a ripetere quando è che ripetiamo dato che in questo diagramma ho previsto che voglio fare una o più cose per cinque volte la prima domanda che mi vado a fare è il contatore inferiore a 5 perché immaginate di contare su di una mano diciamo la lettera a cinque volte 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a a questo punto mi fermo perché se andassi a 6 ripeterei la a per la sesta volta e non andrebbe bene quindi prima di cominciare a fare quello che devo fare mi chiedo se il nostro contatore è arrivato a 5 allora se continua ad essere minore o al massimo uguale a 5 vedete dove c'è la freccia tratteggiata significa che posso inserire le cose che devo fare e devo ripetere dopo di che aumento il contatore di 1 e quindi torno indietro tornando indietro mi faccio la stessa domanda attenzione torno indietro ma non torno indietro a rimettere 1 nel contatore perché altrimenti il contatore varrebbe sempre 1 se io tornassi qui a questo punto qui rimetterei 1 nella variabile i nel contatore i quindi sarebbe ancora minore o uguale di 5 lo posso incrementare passerebbe a 2 ma tornando indietro lo rimetterei a 1 sarebbe sempre meno di 5 e entrerei in un cosiddetto loop o meglio detto in italiano ciclo infinito quindi io devo evitare questo l'inizializzazione del contatore a 1 avviene al di fuori del ciclo noi non la dobbiamo ripetere più mettiamo 1 all'inizio entriamo nel ciclo se i vale 1 è minore di 5 quindi faccio quello che devo fare i diventa 2 torno indietro 2 è minore uguale di 5 vero quindi faccio quello che devo fare i diventa 3 torno indietro e quindi ho fatto già due volte 3 è minore uguale di 5 si faccio quello che devo fare per la terza volta i diventa 4 torno indietro 4 è minore uguale di 5 si faccio quello che devo fare per la quarta volta i diventa 5 torno indietro i è ancora minore uguale di 5 si adesso è uguale a 5 ma la condizione è ancora vera è uguale a 5 quindi faccio le cose che devo fare per la quinta volta a questo punto gli diventa 6 torno indietro e i 6 è minore uguale di 5 no è falso a questo punto il programma prosegue per un'altra direzione quindi quello che dovevo ripetere per cinque volte lo racchiudo in questo ciclo ora se noi vogliamo adattare il nostro programma qui c'è 2000 perché io feci vedere che non dipende dal numero di volte ne facciamo una cosa quindi può essere 5 può essere 10 può essere 10 mila può essere un miliardo di volte a seconda del limite che impostiamo qui tante tanti giri tante interazioni verranno eseguite quindi metto 5 per mantenere coerenza con il diagramma che vado a scrivere a disegnare sostituisco la variabile contatore con la variabile i in modo che non devo scrivere a lungo perché già scritta e poi vi farò vedere anche come gestire una tabella di traccia cioè praticamente vedere come esegue come il programma va avanti allora nel nostro programma abbiamo tre variabili diciamo i a e somma a il programma cosa faceva inseriva in questo caso cinque numeri e ne calcola la somma vediamo a livello grafico come funziona questa cosa qui nella tabella di traccia noi andremo a seguire il flusso del programma allora partiamo dai uguale a uno a questo punto qua le cose che devo ripetere abbiamo detto vanno a finire qui dentro quindi faccio una freccina un po più piccola in modo che posso inserire le cose che vengono ripetute la accorciamo e prendiamo le cose giuste questa la spostiamo qui allora che cosa succede all'interno del ciclo succede che faccio l'input di a quindi questo messaggio di input con il relativo input con l'istruzione cin nel diagramma di flusso abbiamo imparato che l'input si fa con il sim si indica con il simbolo del parallelogramma e quindi qui avrò un input della variabile a bene poi dopo di che ad ogni giro calcolo la somma parziale cioè nella variabile somma che dovrà contenere il totale ogni volta ci aggiungo a di questo abbiamo parlato ampiamente nel video numero 12 quindi non ripeterò quello che è stato detto allora se qualcuno ha dei dubbi su cosa possa significare questa dicituna può andare a vedere quel video e chiedersi le idee allora questa è un'operazione quindi andiamo inserire il blocco di la figura che indica un'elaborazione qua magari ci allunghiamo un po facciamo così questa qui la spostiamo qui vediamo un po se ci basta allora qui andiamo a fare somma somma e scusatemi somma è uguale sarà uguale a somma più il valore di a che ho inserito ok e quindi qui andiamo a mettere le nostre grave peccine anche qui per capire la direzione è una la dobbiamo accorciare un po poi un'altra così con il copia incolla questo ce la portiamo proprio qua è questa qui la allunghiamo un po giusto per venire ad agganciarsi qui ok allora quindi nello ciclo non c'è nient'altro questo non è importante qui vi facevo vedere di volta in volta quanto valeva la somma ogni volta che inserivamo un numero possiamo anche togliere questa istruzione e lasciare semplicemente la somma ora quando avevamo finito il ciclo vedete il ciclo è questo tutto quello che nel ciclo è qui questo qui viene eseguito fuori dal ciclo alla fine noi faremo vedere direttamente il valore di somma quindi questa qua la spostiamo questo lo togliamo andiamo di nuovo con un bell'output con l'output ne vedremo nel caso falso quando abbiamo superato il valore di 5 per il contatore andiamo semplicemente a visualizzare somma perfetto e poi dopo che il nostro programma potrà terminare in santa pace quindi andiamo a terminare il nostro programma con il nostro con la nostra ellisse praticamente dove mettiamo fine il programma finisce qui fine il programma inizia qui va bene non fatemi mettere inizio l'ultima cosa che voglio dire è che manca l'azzeramento della somma anche per questa istruzione c'è una spiegazione valida che andrete a vedere nel video numero 12 per il momento noi andiamo a inizializzare anche la somma quindi dovremmo praticamente preoccuparci di azzerare anche la somma mettiamolo qua io uguale a 1 e somma è uguale a 0 scusate bene così adesso possiamo esaminare il nostro programma possiamo esaminare il suo funzionamento già su carta già qui anzi va fatto perché prima di scrivere il codice no io non volevo farlo lo volevo fare una freccina salviamo prima che succeda il padatrack allora somma uguale a 0 con la nostra tabella di traccia esaminiamo il nostro programma il nostro programma parte da i uguale a 1 e poi dopo il secondo passaggio sarà somma uguale a 0 bene ok lasciamolo così ora che cosa succede entro nel ciclo vado a vedere se i è minore o uguale di 5 si i vale 1 quindi è minore o uguale di 5 a questo punto posso inserire dalla tastiera un numero qualsiasi ed inserisco a sarà uguale a 3 ho inserito 3 a questo punto vado a sommare 3 al valore precedente di somma ma il valore attuale di somma è praticamente 0 voglio allargare un po' questa decidura qua in questo oggetto qui un attimo solo allarghiamo così abbiamo più spazio e ritorniamo dentro quindi i vale 1 è minore o uguale di 5 è vero quindi io entro qua ci manca il vero abbiamo dimenticato una cosa fondamentale nel diagramma di flusso indicare sempre il valore vero e il valore falso non dimenticarlo mai altrimenti chi interpreta il diagramma di flusso non saprà le nostre intenzioni allora abbiamo inserito a somma sarà uguale al valore precedente che è 0 più a 3 0 più 3 fa 3 il valore va di nuovo in somma quindi noi in somma avremo il valore del nuovo valore sarà 3 e procediamo il nostro programma procede i diventa i più 1 quindi se valeva 1 più 1 diventa 2 il programma torna indietro torna indietro torna qui 2 è minore o uguale di 5 vero allora inseriamo un altro numero a vale 8 somma che valeva 3 verrà sommato alla a che abbiamo inserito 8 più 3 adesso somma avremo un nuovo valore che si chiama che sarà 11 e andiamo al passo successivo i diventa 3 i è diventato 3 e torna indietro 3 è minore o uguale di 5 giusto quindi è vero inserisco un nuovo valore per a e inserisco 9 inserendo 9 per a torno a questo punto qua quindi somma vale 11 a vale 9 somma più a 11 più 9 somma diventerà 20 avrà avuto un ulteriore valore nuovo quindi somma vale 20 a questo punto vado qui il programma prosegue incrementa ancora una volta la i e che diventa 4 il programma torna indietro 4 è minore o uguale di 5 sì vero quindi inserisco un nuovo valore per la a e inserisco 30 allora somma vale 20 più 30 adesso avrà un nuovo valore che è 50 e a questo punto vado avanti i vale 4 aumento di 1 e diventa 5 andiamo avanti anzi andiamo indietro a questo punto 5 è minore o uguale di 5 certo è uguale a 5 quindi la condizione è ancora vera inserisco un nuovo valore per a allora mettiamo valore 15 somma che vale 50 aumentato di a che è 15 varrà 65 quindi ultimo valore per a 65 e a questo punto diventa 6 torniamo indietro il programma torna ancora una volta indietro e a questo punto trova la condizione falsa cioè praticamente che cosa è successo qui? è successo che 6 non è minore o uguale di 5 quindi la condizione non è verificata è una condizione falsa e a questo punto noi dobbiamo semplicemente stampare il valore di somma il valore di somma attuale è 65 e infatti se guardiamo i valori che abbiamo inserito 3, 8, 11, 9, 20, 30, 50, 15, 65 sono esattamente 5 valori quindi abbiamo fatto la somma di 5 numeri inseriti da tastiera ora vi badisco ancora una volta questa cosa noi abbiamo usato questa è una struttura iterativa generica noi l'abbiamo realizzata con il for ma l'avremmo potuta realizzare anche con altri tipi di strutture dobbiamo ricordare solo che possiamo usare il for quando sappiamo esattamente quante volte vogliamo girare quindi dato che il numero di giri di iterazioni che dobbiamo fare è prestabilito noi possiamo usare il for poi nel futuro impareremo ad usare altre strutture iterative che sono utili quando noi non sappiamo quante volte dobbiamo non sappiamo già prima quante volte gireremo e quindi praticamente in quel caso il for perderà la sua valenza non potremo usarlo più e dovremo attenerci all'uso di altre strutture bene ragazzi adesso io vi lascio perché l'argomento va approfondito va studiato e quindi riflettete su questo diagramma di flusso e poi avremo modo di ritornare tante volte sulle iterazioni perché sono fondamentali sono importantissime io vi lascio ancora qualche secondo qua il lavoro è appena finito lo salvo e vi do appuntamento al prossimo video dove faremo qualche nuovo esempio pratico con il ford cercando poi di infilare dentro anche le cose che abbiamo già studiato perché i programmi diventeranno sempre più complessi ma noi come in un puzzle metteremo sempre pezzi nuovi oltre a quelli esistenti bene vi lascio un buon lavoro e vi aspetto per il prossimo video ciao ciao ciao